Vero, vero. Pensavo di aver sbagliato bar. Potevi almeno mettere il tuo nome nell'insegna fuori. Yesanya, ma che ci fa qui? Veramente, stavamo andando all'aeroporto. Ma non posso partire senza prima averti parlato. Ascoltami, vero? Non mi importa con chi sta mia figlia, se sta con uomini o con donne. L'unica cosa che voglio è tornare a casa mia, sapendo che mia figlia è in buone mani. Tu ami i padri? È la donna della mia vita. Ma io come faccio a saperlo? Stiamo insieme da sette anni. Stare insieme non significa amarsi. Io voglio stare con lei per sempre. Ma è un desiderio, non è la realtà. Non so che cos'altro dirle. È molto semplice. Cos'è per te l'amore? Quando i miei hanno saputo che ero lesbica, mi hanno dato una sberla e mi hanno cacciata di casa. Lo so, mi dispiace. Non avevo più una famiglia, ma ne ho costruita un'altra. Con Abby. Con Alex. Ma soprattutto con padri. Non sapevo cosa fosse casa finché non l'ho conosciuta. L'amore non è un sentimento. È un luogo. Un rifugio. Capace di difenderti da qualunque cosa. E padri è questo per me. Non so se ho risposto alla sua domanda. Prenditi cura della mia padri. E per favore, non metteteci troppo a fare pace che lei non vede l'ora di perdonarti, figliola. Ciao. Arrivederci.